Presso la Chiesa Santuario del Cuore Immacolato di Maria, Varconotare Ercole di Sassano, nella serata di ieri è stata celebrata la Santa Messa in onore delle Forze dell'Ordine. Una celebrazione organizzata e voluta dalla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina nella persona del Capitano Davide Acquaviva. Tante le istituzioni, anche civili, con diversi sindaci del territorio presenti all'evento, che si è aperto con la celebrazione religiosa ufficiata dal Vescovo Monsignor Antonio De Luca con la concelebrazione di Don Franco Facchini, cappellano militare della Legione Carabinieri Campania, e di Don Carmine Tropiano, parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria. A presenziare alla cerimonia in onore delle Forze dell'Ordine il neocomandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Gianluca Trombetti, per la prima volta in visita nel Vallo di Diano. È un territorio sicuramente vasto, ma è un territorio molto bello. Ho avuto modo di apprezzarlo in questi pochi giorni, è un territorio che va tutelato in tutti quanti i sensi. Per quanto riguarda noi sicuramente quello che possiamo fare è controllarlo, prevenire i reati e cercare di riprimere quelli che vengono commessi, ma io ho sempre creduto che il valore raggiunto della nostra missione, della nostra professione sia quello di rassicurare le persone, rassicurarle, supportarle ed essere un riferimento, un riferimento per la comunità, un riferimento per la comunità e per il territorio, la cui tutela comprende tanti settori, anche quelli degli interessi diffusi in primis l'ambiente in cui ci siamo impegnati e vogliamo impegnarci sempre di più e la vicinanza alla popolazione che, come in queste circostanze, ci ristora di tutti i sacrifici che facciamo tutti i giorni, con la riconoscenza, con la riconoscenza incondizionata che ci dà la forza di assisterli e che ci dà la forza di proteggere queste comunità che sentiamo nostre. Presente inoltre alla celebrazione in onore delle forze dell'ordine è anche il generale di divisione Maurizio Stefanizzi, comandante della legione Carabinieri Campania, che invece già in passato ha avuto modo di visitare Sassano e che ha sottolineato, come conosce bene, il territorio salernitano e cilentano. La Campania è una regione meravigliosa, però ha delle problematiche anche per quanto riguarda il nostro lavoro. È un territorio difficile, con grandi problematiche anche sociali, a cui faceva riferimento anche il Vescovo nella sua omelia, con gente che va via, i giovani soprattutto perché non trovano lavoro. Quindi noi abbiamo una doppia responsabilità, quella di garantire sicurezza, anche per incentivare insieme alle altre istituzioni locali, magari una rinascita dell'economia, del turismo per far crescere queste comunità, per dargli una prospettiva, per non condannarle alla morte sostanzialmente. Quindi questa è una responsabilità che noi Carabinieri sentiamo moltissimo perché spesso siamo l'unica forza di polizia presente sul territorio. Quindi abbiamo una grande responsabilità, ce l'abbiamo da tantissimo tempo e continuiamo ad assumercela per il futuro. Accanto ai Carabinieri guidati dal Capitano Davide Acquaviva, oltre tanti militari che lavorano a difesa del territorio controllato dalla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, c'erano anche i rappresentanti delle forze dell'ordine locale, partendo dal comandante della Guardia di Finanza di Sala Consilina, il luogotenente Giuseppe Iannarelli, il comandante della sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, Rufino Tortora, e il responsabile del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina, capo squadra esperto Luigi Morello. Al termine della cerimonia è un momento conviviale con un ricco buffet.